Benvenuti al nostro TG Sport. Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolise. Parliamo di basket femminile di serie A1. Non è riuscita alla molisana Magnolia l'impresa di allungare a gara 3 la serie Scudetto contro la Reier Venezia. Ma resta un risultato sicuramente storico per il basket molisano femminile e per il basket rosso-blu. Perché insomma soltanto qualche anno fa era davvero impensabile, era un'utopia pensare che una squadra di campo basso potesse classificarsi tra le prime quattro squadre d'Italia a livello di pallacanestro femminile. Quindi un ringraziamento particolare va sicuramente alla molisana con Rossella Ferro, alla presidente della società Antonella Palmieri e naturalmente allo staff tecnico con Mimmo Sabatelli. Tutto lo staff e tutte le giocatrici perché hanno regalato davvero un risultato storico alla storia del basket molisano e in particolare quello capobassano. Ma vediamo il servizio. Così come all'andata, anche in gara 2 della semifinale play-off, la molisana Magnolia ha dovuto cedere questa volta di 3 contro la Reier Venezia, chiudendo la contesa 63-66. Una giornata che resterà per sempre nei ricordi di tutti, un anno ricco di soddisfazioni che ha regalato mille sorrisi. Le rosso-blu hanno chiuso al terzo posto in classifica il campionato scrivendo una bellissima pagina della loro giovane storia. In un'arena sold out, un match dalle grandi emozioni terminato tra le applausi e la gioia di tutti. Così le molisane hanno concluso la loro avventura nella post-season. La Reier Venezia invece si preparerà ad affrontare la corazzata Famila Schio per la serie di finale scudetto. Le lagunari hanno incontrato non poche difficoltà sul parquet dell'arena. Le rosso-blu sono partite infatti subito forti andando a prendere un più 5 che ha costretto le ospiti ad effettuare delle rotazioni per rientrare in partita. Poi un gioco di sorpassi e controsorpassi con le Venete bravi a prendere la giusta inerzia chiudendo la prima frazione di gioco 14-15. Un break di più 6 all'inizio del secondo periodo ha costretto coach Sabatelli a chiamare Temaut. La dinamica sembra non cambiare, le Venete governano la partita. Capitan Trimboli prima, Cuinai e la tripla di Dedic poi hanno ridotto il margine mandando letteralmente invisibilio l'arena. Uno scarto però ancora troppo ampio ha portato all'intervallo lungo, siamo 26-33. Al rientro dalle spogliatoio la Magnolia è più cinica che mai e 4 punti in successione dai tiri liberi di Chignonez hanno riportato le Campobassani al meno 4 del 45-49. Una partita a tutti gli effetti riaperta che ha regalato un enorme spettacolo nell'ultimo quarto di gioco. Dopo una tripla di Venezia che ha di fatto aperto l'ultimo periodo, il 4-0 firmato da Dedic e Chignonez ha riportato le Magnolia ad un solo possesso di distacco. Con 5 minuti e 50 secondi ancora tutti da vivere. Emozioni senza sosta, le rosso-blu hanno trovato la via del canestro, un botta e risposta continua per un finale al cardiopalma. Con una tifoseria che ha intonato cori di incoraggiamento, due triple perfette di Chignonez hanno regalato il meno uno delle Campobassane, un finale da brividi per la Magnolia, costretta poi a cedere di un solo possesso alle proprie avversarie. Per le rosso-blu la stagione è terminata con un terzo posto finale dopo il piazzamento in quarta posizione nella regular season. Il quasi-accesso alle Final Four di Coppa Italia, l'opportunità di proiettarsi anche sulla supercolpa e il diritto acquisito ad un posto in Europa nello scenario dell'Eurocup. Per il calcio di Serie D il cammino del Campobasso nella Pull Scudetto inizierà domenica prossima in trasferta contro la Pianese. Definito il programma della Pull Scudetto, Lupi in campo domenica in trasferta contro il Pianura in provincia di Siena in caso di successo. Domenica 19 sfida al Morinari contro il Carpi, altrimenti anche in caso di pareggio nella sfida in programma a Pian Castagnaio, la gara interna contro il Carpi appunto si giocherà mercoledì. La squadra ha ripreso ieri gli allenamenti e pressoché certa una buona turnazione degli uomini da parte di Mister Pergolizzi. Una manifestazione è quella della Pull che in buona sostanza interessa solo a fini statistici e null'altro. L'obiettivo è stato raggiunto, la Lega Pro è arrivata e nella prossima stagione i Lupi saranno nuovamente protagonisti nel calcio professionistico. Questo è un periodo utile per programmare la nuova stagione. I rappresentanti in capo al Campobasso hanno subito rilanciato le ambizioni anche per la Serie C. L'obiettivo è quello di allestire un organico di prima fascia per competere nei piani alti della classifica, periodo questo di maggio, teso anche ad irrobustire le basi. Per affrontare una categoria superiore serve anche un allargamento delle varie componenti in seno alla società, dai partner alle figure apicali, passando per il settore giovanile che gioco forza dovrà essere diverso rispetto a quello della stagione che si sta concludendo. Insomma un percorso atto a far crescere ancora di più il club Campobasso per affrontare nel migliore dei modi la nuova avventura. La piazza Rosso-Blu sogna ad occhi aperti, l'entusiasmo alle stelle e l'argomento Campobasso si affronta in tutte le sedi, come ad esempio la possibilità di giocare nel girone C meridionale oppure nel B più centrale rispetto alla cartina geografica dell'Italia. A proposito di Serie C, sono iniziati i play-off per la promozione in Serie B. Giocati 32esimi di finale, si torna in campo sabato per le sei gare, valide per i sedicesimi. Ha chiuso la stagione nel migliore dei modi il Termoli. Giallorossi hanno guadagnato sul campo una salvezza assolutamente meritata. Il presidente Montaquila, spesso contestato, ha portato la nave in porto e ora programma la nuova stagione. Non si escludono forme di collaborazione per fortificare la permanenza del Termoli in quarta serie. È altrettanto vero che la presenza di Montaquila è fondamentale per la prosecuzione del calcio termolese ad un certo livello. Nella prossima stagione sarà presente anche l'Isernia, un ritorno cercato più volte. Finalmente la Serie D è realtà grazie alla cavalcata della squadra guidata da mister Farrocco. Anche negli ambienti societari bianco-celesti si programma il torneo di quarta serie con l'impegno della proprietà di voler ben figurare nella nuova stimolante stagione. Condottiero della vittoria a campionato dei Lupi, Rosario Pergolizzi si è distinto per concretezza e umiltà gestendo al massimo i momenti delicati. Con il mister dicevamo a microfoni spenti probabilmente la fase decisiva dove si è rimasti incollati a questo campionato è stato quando sei arrivato tu, c'erano grosse difficoltà e sono arrivate delle vittorie pesanti Senigallia, Sora, ricordiamo con il Fano alla fine. Sono quei punti che poi vi hanno permesso di restare lì e poi di cambiare passo. Diciamo che con l'avvento nostro, con l'arrivo mio e del direttore, sono state sette, otto partite dove comunque durante non abbiamo mai avuto una sosta quindi abbiamo dovuto rifare dei calcoli con la società perché poi tutto quello che abbiamo fatto l'abbiamo sempre fatto ragionando tutti con la società e prendendo delle decisioni tutti assieme. Però è stata rifatta una squadra perché non so quanti giocatori sono andati via e quanti ne sono arrivati e mentre rifacevamo tutti assieme questa squadra si doveva giocare quindi io credo che per le prime sette, otto partite noi abbiamo cercato di stringerci tutti assieme sapevamo le difficoltà che potevamo avere partita dopo partita abbiamo retto il colpo perché comunque abbiamo fatto un gran lavoro e poi l'apice di tutto questo credo che partendo da Senigallia l'apice l'abbiamo raggiunta a Senigallia vincendo quella partita dove la condizione fisica è arrivata poi c'è stato un calo ma non è stato un calo fisico ma era un calo mentale perché una rincorsa lunga, un cambiamento anche il fatto stesso di chi era rimasto di rispettare chi è arrivato come giocatore nuovo chi è arrivato nuovo ad adeguarsi con un gruppo che già c'era abbiamo fatto un gran lavoro, hanno fatto un gran lavoro io ho cercato, questo se devo dare un elogio dico che questa è stata una società che ognuno ha rispettato i propri ruoli è stato al suo posto, i giocatori, il presidente, il vicepresidente, il direttore sportivo, il direttore generale ognuno ha rispettato il suo ruolo e credo che poi l'abbiamo fatto con tanta energia, tanta voglia ma sacrificando del tempo alle nostre famiglie ma anche loro soprattutto chi stava dietro le quinte quindi l'abbiamo raggiunto grazie a tutti quindi è giusto che ci meritiamo questo applauso a tutti assolutamente, una battuta finale, ora è il tempo della festa, futuro insomma per il mister Pegolizzi c'è la volontà di restare qui che possiamo dire? io credo che noi abbiamo conquistato la C intanto me la tengo stretta perché sono in C, i ragazzi sono in C, tutti noi è normale che in questo momento non sarebbe, non è, sono frasi fatte la verità è che questo è un gruppo che ci dobbiamo sedere, valutare perché poi ok il rinnovo, ok il rimanere, ok i giocatori che vanno, ok i giocatori che vengono però io credo che in questo momento c'è da pianificare, da rinforzare una società e questo lo devono fare chi è il presidente, chi è i proprietari, i soci, tutti quanti quando loro hanno pianificato le loro idee, il loro modo di pensare quello che vogliono fare, credo che poi subentri anche il fatto del rinnovo o non rinnovare noi non abbiamo questa premura perché sappiamo che comunque il calcio è fatto di tempo ci vuole equilibrio, ci vuole umiltà e soprattutto io credo che quello che abbiamo dimostrato è che noi abbiamo parlato poco, forse in questo campionato di Serie D non siamo mai andati oltre, abbiamo rispettato tutti e abbiamo fatto poche parole e tanti fatti io vorrei che continuasse il campo basso a fare tanti fatti e poche parole perché poi alla fine contano quella per Vasto Girardi e Matese, stagione negativa culminata con la retrocessione nel campionato d'eccellenza peccato non essere riusciti almeno a disputare i play-out e giocarsi le possibilità di mantenere la categoria in una gara secca, dopo aver smaltito la delusione sarà necessario capire gli scenari futuri per le due società una passione sconfinata per il mondo delle bocce, gli atleti della bocciofila montenerese hanno rivolto un appello alle istituzioni per la costruzione di una struttura adeguata nel proprio paese vale a dire Montenero di Bisaccia ed evitare di migrare su campi limitrofi avete questa bocciofila a Montenero giusto perché appena sono entrato ci siamo incontrati però insomma il problema credo principale è che poi a Montenero non sapete dove andate addirittura in Abruzzo andate a San Salvo abbiamo uno sterrato a Montenero però comunque non è adatto per poter svolgere questo sport ecco però nonostante questo io vi chiedo i nomi perché chiaramente è la prima volta che ci vediamo nonostante questo tu per esempio avete lo stesso una società sì, tu come ti chiami? Fernando Benedetto e quindi avete costituito comunque questa società anche se non c'è poi un posto per andare a giocare per andare a giocare sì che è una cosa strana perché insomma io francamente non lo sapevo perché se non si mettono poi delle volte i riflettori su alcuni problemi non le puoi sapere certe cose tra l'altro Montenero è un paese grande insomma cioè di tradizione sportiva remonte sia ciclistica che calcistica allora che cosa vogliamo dire? cioè non una protesta però una legittima aspirazione ci fanno almeno un campo dei campi a bocce idonei per giocare, fare le gare per avere un attimo di un posto anche dove ritrovarsi e come fate? la sera prendete la macchina e andate? a San Salvo, San Salvo, o Termolo o San Salvo e ci andiamo ad allenare e giochiamo così con la speranza che arrivi questo benedetto campo ma quindi è proprio passione sì esatto, la passione c'è perché insomma uno per mettersi su una macchina, fare 10, 12, 15 chilometri per poi trovare un impianto dove giocare a bocce insomma se non è passione questa non ce n'è, sì 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 è così ma quanti ne siete? Mi rivolgo a te dimmi prima come ti sei? Claudio Giardino siamo oltre 60 tesserati però diciamo che a giocare siamo una quindicina che abbiamo più la passione per giocare un mondo dove voglio dire deve essere anche preparato fisicamente perché se stai una giornata, due giorni, sui campi ce la devi anche fare tu come ti chiami? allora io mi chiamo Beniamino Daulerio e mi presento come presidente dell'associazione lui è il segretario, Claudio Giardino Mario Di Vincenzo è il cassiere e ci manca il vice presidente purtroppo e sì ci vuole pure la cosa fisica e pure mentale perché giocare due o tre ore e stare concentrato a quello che devi fare deve essere insomma anche portato oltre alla passione praticamente voi avete 60 iscritti giusto? abbiamo una sessantina di iscritti una quindicina che andiamo giocando però quelli che proprio appassionati appassionati siamo una decina però gli altri secondo me non si appassionano perché devono andare a San Salvo e questo è uno sport Termoli e questo è uno sport che porta anche economicamente un po' di soldi da mettere e gli altri non lo so noi purtroppo questa è un'associazione che è nata solo per preparare quel campetto che abbiamo in sabbia poi piano piano dice facciamo l'iscrizione alla federazione l'abbiamo fatta all'agenzia delle entrate come associazione poi ho conosciuto Giuseppe Formato ma già lo conoscevo non mi ricordo per il motivo dice uno dei motivi che se fate l'iscrizione all'associazione vi affiliate la speranza di fare questo benedetto bocciotto per adesso ci hanno fatto solo un massetto per due gambi e con la speranza che ce lo portano a Termoli ma io vorrei fare un appello perché abbiamo il sindaco dalla parte nostra perché non farci questo campo questo bocciotto anche coperto anche coperto perché noi oltre alle bocce abbiamo anche la passione di portare associazionismo bravo non mi viene la parola l'hai detto tu perché là poi specialmente se ce lo fanno dove sta adesso che ci sono i campi da tenere uno va là ci sono i parcheggi si ferma vorremmo fare il barretto vorremmo fare il gioco a carte ma se non ci fanno il bocciotto è tutto morto Volley di Serie B ultima giornata nel Girone G serve un successo pieno all'Energy Time per certificare il primo posto in ottica playoff dopodomani nel Capolugo arriverà l'Acliseat l'Acliseat penultima in classifica occasione da non sciupare per i ragazzi di Maniscalco primo servizio dopodomani alle 18 campionati d'eccellenza e promozione terminati terminati spazio alle gare post season nel campionato d'eccellenza non si disputeranno i playoff per lo sbarramento dei 10 punti l'Aurora Alto Casertano andrà direttamente agli spareggi nazionali contro la Sicilia con andata il 26 maggio ritorno il 2 giugno si giocheranno questo weekend il playoff tra Cliternino e Campomarino dopodomani alle 15 mentre domenica ci sarà lo spareggio retrocessione tra Termoli e Agnone in campo neutro a Montenero di Bisaccia a partire dalle 16 la vincente affronterà il Boiano al Colalillo per cercare la permanenza in categoria il Sesto Campano ha chiuso la sua stagione con un campionato tranquillo raggiungendo con anticipo gli obiettivi Antonio Di Gregorio attaccante del Sesto Campano dunque chiudete il campionato con una vittoria ci tenevate ovviamente senza l'assillo del risultato un'ottima prestazione con la polisportiva Fortore malgrado lo svantaggio iniziale poi tante occasioni una grossa mole di gioco espressa nella ripresa sei riuscito con questa doppietta a chiudere in bellezza anche il tuo campionato sotto il punto di vista personale ci tenevamo a chiudere bene l'anno a fare bella figura in casa spero sia l'ultima qui il Sesto Campano non so se ci sarò ancora tornerà a giocare a Sesto Campano ci tenevamo a vincere si è messa subito in discesa però siamo stati bravi l'abbiamo ribaltata con un bel gioco dico la verità sì la difficoltà principale in questo campionato insomma sotto gli occhi di tutti il fatto che come hai accennato in precedenza le gare in casa le avete disputate qui al comunale di Capriati al Volturno insieme a tutti ovviamente gli allenamenti sì siamo stati tutto l'anno qua ma questo non è un alibi comunque a Sesto stanno rifacendo un sindaco forse è stato diverso questo cambiamento da terreno d'erba naturale al sindaco però non è un alibi il campionato comunque abbiamo fatto un buon campionato molti giovani sono messi in evidenza la squadra è più giovane rispetto agli altri anni però penso chiuderemo al sesto settimo posto comunque siamo contenti potevamo fare di più sicuramente l'ultimo periodo è stato nero non facevamo risultato da 6-7 partite però adesso chiudiamo l'anno con un sorriso con una cena speriamo e va bene così è stato un campionato forse per te un po' travagliato per i problemi fisici che hai avuto ma sei riuscito comunque a chiudere la quota 12 gol quindi credo può essere un risultato soddisfacente per come si è messa sì vabbè i problemi ce li hanno tutti durante l'anno il mio è stato un po' più serio ho avuto questo problema che mi ha tormentato negli ultimi due anni però fortunatamente sembra risolto del mio bottino personale sono comunque contento perché non è sempre non è poco fare 12 gol potevo farne anche di più però con i secconi ma non si va da nessuna parte sono contento per me per il sesto campano per tutti per il bell'anno che abbiamo trascorso per il grande gruppo che il sesto ha sempre avuto il grande presidente ci tengo a ringraziarlo lui è tutto lui è il sesto campano perché fa tutto per questa squadra e il grande mister Cecchino che è qui da una vita e credo che ci resterà ancora per molti anni nel campionato di promozione fare i puntati sullo spareggio tra Baranello e Montenero che si disputerà dopo domani a Vasto Girardi a partire dalle 17 chi vince avrà accesso al massimo torneo chi perde avrà la possibilità di disputare il play-off contro la Esernia l'unico spareggio play-out previsto è quello tra Busso e Morcone in programma domenica con fisco di inizio alle 15.30 a proposito del Baranello i Rosso Blu stanno preparando la gara che vale una stagione Luca Cappelletti del Baranello vittoria doveva essere vittoria è stata primo tempo davvero sontuoso 3-0 addirittura stretto poi nella ripresa sono usciti un po' gli avversari i ritmi si sono abbassati sì siamo arrivati proprio stremati all'ultima giornata però ci sono ancora 90 minuti questo spareggio questa finale che ci aspetta per salire in eccellenza è stato un primo tempo tutto a favore nostro 3-0 più che militato ci è andato stretto ovviamente nel primo tempo questo 3-0 però poi dopo alla fine abbiamo fatto giocare anche loro abbiamo giocato anche noi ci siamo un po' rilassati nel secondo tempo abbiamo tra virgolette rischiato però sostanzialmente alla fine l'esperienza nostra ha portato avanti questa vittoria e siamo riusciti a portare questi tre punti che ci danno la possibilità di fare questa finale che aspettiamo da tanto una finale che vi vedrà con il Montenero di fronte una squadra che avete affrontato due volte coincise con due sconfitte quindi un avversario che conoscete bene magari avete anche capito forse un po' i punti deboli ma guarda noi all'andata l'abbiamo ripresa al ritorno non ti nego che al novantesimo potevamo fare il 4-3 ci stava ancora tanto da recuperare è una squadra che ovviamente ha delle individualità come l'abbiamo anche noi la cosa buona è che giochiamo a campo neutro ovviamente il risultato in caso di pareggio si fa supplementari ovviamente dopo i supplementari si fa i rigori quindi non sono due risultati su tre a favore loro quindi ce la giochiamo in una finale e speriamo bene per la Esernia settimana di allenamenti i pentri attendono la perdente dello spareggio promozione per disputare l'unico playoff mister Fabio Di Rienzo per la Esernia successo importante a Spinete adesso vi giocherete la finale playoff si chiudiamo questo campionato 65 punti non sono pochi un po' di amaro in bocca c'è perché fare 65 punti non festeggiare eccellenza ti lascia un po' un po' di amaro in bocca diciamo che siete stati autori nel complesso comunque di una grande stagione cosa secondo te è mancato per poter festeggiare io sono molto soddisfatto perché il dato più importante è che abbiamo raggiunto questo traguardo come migliore società nell'impiego giovani quindi sfido chiunque a giocarsi un campionato con tanti giovani in campo è un premio che dà lustro alla società sia economico sia a livello di immagine da continuità al lavoro che si fa con le scuole calcio e quindi personalmente sono molto molto soddisfatto dal punto di vista dei punti con i secconi ma non si fa calcio naturalmente la mare in bocca nasce che bastava un punticino per festeggiare nell'arco delle 30 partite qualche passo falso l'abbiamo fatto però merito a tutti merito anche agli avversari che hanno lottato fino alla fine è stato un campionato bellissimo e ora ci giocheremo tutti in 90 minuti Obiettivo comunque sicuramente nel mirino l'eccellenza sarebbe un grandissimo traguardo Sì sarebbe un traguardo importantissimo perché come ho detto poc'anzi raggiungerlo come vincitrice del premio per l'impiego di più under rafforzerebbe questo risultato poi se non dimentichiamo che la prima squadra di Sernia a Prodense Reddì portando una seconda squadra in eccellenza darebbe lustro a tutta la provincia Tornando un attimo a Spinete è stata partita dura l'avete risolta con l'esperienza ci avete creduto e sono arrivati i tre punti Sì sapevo che comunque era una partita tosta anzi faccio complimenti allo Spinete perché ha onorato il campionato fino alla fine anche senza giocarsi nulla ha lottato su ogni pallone fino alla fine dando prova di onestà di serietà anzi credo che sia da esempio per molte squadre che negli ultimi giornali magari possano scansarsi o altro quindi merito a Spinete hanno raggiunto ancora l'obiettivo e ora loro vanno in vacanze e noi ci tocca lavorare ancora un po' Con la doppietta al busso nello scorso weekend l'attaccante del Trivento Minichillo ha conquistato il titolo di capo cannoniere del torneo di promozione Alex Minichillo attaccante del Trivento Triventa per te Palma di Migliori in campo avete vinto una bella partita su un campo difficile come quello del busso Sì abbiamo fatto una prestazione diciamo all'altezza della squadra perché comunque è un campo difficile abbiamo giocato un primo tempo sotto le aspettative però secondo tempo siamo rientrati meglio in campo abbiamo sfruttato un po' di più le occasioni rispetto a loro e ci è andata bene quindi faccio un cross in bocca al lupo alla squadra perché so che deve giocarsi play out e spero che effettivamente rimanga in questa categoria perché se lo merita Vittoria Amara aspettavate notizie positive da Spinete e Baranello non sono arrivate però comunque chiudete al quinto posto 54 punti dopo una partenza un po' complicata alla fine i risultati sono arrivati forse il rammarico per le ultime partite ero cravindola Juveness guarda è così purtroppo c'è molto rammarico per queste partite dove abbiamo peccato e buttato un po' di punti che sarebbero serviti per questo per questo fine campionato e per darci l'entusiasmo anche di giocarci una partita in più quindi quella dei playoff in modo tale che era anche un risultato bello per la squadra dopo tutti i sacrifici che abbiamo fatto ad agosto quindi ce lo meritavamo tutto è andata così purtroppo dobbiamo voltare pagina e pensare all'anno prossimo sperando di creare un bel gruppo perché alla fine questi campionati sì è giusto giocare bene tutto però alla fine il gruppo fa la differenza quindi è stato un anno dove ringrazio tutti quindi dirigenza società amministere compagni di squadra proprio perché hanno messo l'anima in campo sono venuti a campo basso tutte le sere quindi si sono allenati con costanza e poi i risultati sono visti abbiamo chiuso un quinto posto con 54 punti dove diciamo difficilmente una squadra riesce ad ottenere questi punti dopo una partenza non delle migliori a livello personale invece se più che soddisfatto il tuo l'hai fatto tre gol ti porti il palone a casa e chiudi a quota 28 meglio penso che non potete fare guarda è una soddisfazione personale quindi sì ci tenevo e penso anche tutta la squadra ci teneva per raggiungere almeno un obiettivo che era quello del capocanoniere poi ovviamente sono sono palcoscenici dove i gol fanno il suo nelle vittorie delle partite ma non servono poi per dare entusiasmo al capocanoniere quindi è semplicemente una ciliegina sulla torta dopo questa questa annata diciamo fatta fatta al meglio da tutti quanti quindi ringrazio anche i compagni perché mi hanno dato la possibilità di fare gol e il mister che mi ha messo nelle condizioni di farlo futsal di serie a due eletti il Cus Molise riceverà dopo domani al Pala Unimo il capurso per la gara d'andata dei play-out in palio un solo posto per restare nella seconda serie nazionale importante lo scarto di reti nell'ottica del doppio confronto mister Sanginario ha preparato i suoi a questa doppia sfida ma oltre al lungo del gente Vinicius dovrà rinunciare anche allo squalificato Triglia appiedato dal giudice sportivo per un turno Calcio giovanile da domani fino a domenica al Civitelle di Agnone si svolgerà il primo torneo nazionale Midnight Cup organizzato dall'Intensity Football manifestazioni riservate ai Pulcini 2013-2014 Enduro la quinta tappa del campionato regionale Abruzzo Molise e Lazio che si è svolta a Toro ha regalato un grande spettacolo agli appassionati della disciplina ne abbiamo parlato con il sindaco del paese ospitante Roberto Quercio sindaco di Toro ecco sindaco torna dopo tantissimi anni il campionato regionale Enduro siamo alla quinta prova un evento davvero molto partecipato sì siamo contentissimi di questo infatti ringrazio tutti gli organizzatori ringrazio tutti gli enti che si sono messi a disposizione a partire dalla regione prefettura insomma tutti coloro che si sono spesi affinché questa giornata fosse di nuovo possibile a Toro dopo di tanti anni quindi noi siamo orgogliosi di aver messo a disposizione tutto ciò che potevamo per far sì che questa giornata fosse davvero bella per tutti una giornata sportiva una giornata di turismo perché sono venute tante persone anche dal Lazio dall'Abruzzo quindi siamo contenti di poter ospitare tutti a Toro e che possiamo essere quindi l'unica tappa molisana insomma in questo campionato regionale siamo davvero molto contenti di questa riuscita ecco l'importanza della presenza del sostegno della vicinanza dell'amministrazione comunale ad eventi come questo sì sicuramente è importantissimo perché collaborare permette di far uscire insomma tutto al meglio e quindi siamo stati a disposizione ma è stato veramente una cosa naturale perché insomma collaborare fa parte del nostro DNA e siamo contenti di tutti coloro che veramente hanno organizzato perché ce l'hanno messa tutta a partire dalle associazioni dai patiti di moto enduro quindi siamo veramente stati una squadra e per questo siamo davvero molto contenti tanti gli iscritti ma soprattutto tutta la comunità unita dai più piccoli ai più grandi nel partecipare in questa giornata che poi è anche una giornata di festa assolutamente sì su questo posso dire che Toro è un paese molto attivo insomma cerchiamo di festeggiare un po' tutto anche perché la quotidianità è sempre complicata da vivere per cui giornate spensierate belle in cui possiamo stare tutti insieme all'aperto come questa sono davvero preziose la tecno grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti